Carlo il Calvo, un imperatore controverso. Carlo il Calvo, nato a Francoforte sul meno il 13 giugno 823 e morto a Bridesley Spain's il 6 ottobre 877, fu il secondo figlio dell'imperatore Ludovico il Pio e della sua seconda moglie, Giuditta di Baviera. Fu re dei franchi occidentali dall'840 all'877, re di Lotaringia dall'869 all'877, imperatore del sacro romano impero dall'875 all'877, re d'Italia e re di Provenza dall'875 all'877. La sua infanzia fu segnata dalla lotta per la successione al trono imperiale tra i suoi fratelli, Lotario I, Ludovico il Germanico e Carlo Manno. Alla morte del padre nell'840, Lotario fu riconosciuto imperatore e re dei franchi, ma Carlo e Ludovico si coalizzarono contro di lui e lo sconfissero nella battaglia di Fontenay nell'841. Con il Trattato di Verdun dell'843, Carlo ottenne il regno dei franchi occidentali, che comprendeva l'attuale Francia occidentale e parte dell'attuale Belgio. Carlo governò il suo regno in modo relativamente pacifico, concentrandosi sulla costruzione di chiese e monasteri e sulla promozione della cultura. Tuttavia, il suo regno fu anche caratterizzato da una crescente instabilità politica e sociale. Nell'852, Carlo perse il controllo dell'Aquitania, che fu conquistata dal suo fratello Ludovico il Germanico. Nell'869, alla morte di Lotario II, Carlo ereditò la Lotaringia, ma fu costretto a cederla a Ludovico il Germanico nell'870, con il Trattato di Mersen. Nell'875, alla morte dell'imperatore Ludovico II il Giovane, Carlo fu eletto imperatore dei franchi. Tuttavia, il suo regno imperiale fu breve e inconcludente. Carlo morì nell'877, lasciando il suo regno in una situazione di caos. Carlo il Calvo è una figura controversa nella storia. È stato spesso criticato per la sua incapacità di mantenere l'unità dell'impero carolingio. Tuttavia, è stato anche elogiato per il suo sostegno alla cultura e alla religione. Le principali caratteristiche del regno di Carlo il Calvo Il regno di Carlo il Calvo fu caratterizzato da una serie di eventi e tendenze che contribuirono alla disgregazione dell'impero carolingio. La lotta per la successione La lotta per la successione al trono imperiale tra i figli di Ludovico il Pio fu una delle principali cause dell'indebolimento dell'impero. La divisione del regno in tre parti con il trattato di Verdun del VIII 843 contribuì a indebolire ulteriormente l'unità dell'impero. L'instabilità politica Il regno di Carlo fu caratterizzato da una crescente instabilità politica. I nobili locali si rafforzarono e iniziarono a sfidare l'autorità regia. I problemi economici L'impero carolingio era in una fase di crisi economica. La popolazione era in calo e la produzione agricola era in declino. L'eredità di Carlo il Calvo Carlo il Calvo è una figura controversa nella storia. È stato spesso criticato per la sua incapacità di mantenere l'unità dell'impero carolingio. Tuttavia, è stato anche elogiato per il suo sostegno alla cultura e alla religione. La sua eredità è complessa e contraddittoria. Da un lato, il suo regno fu caratterizzato da una serie di eventi che contribuirono alla disgregazione dell'impero carolingio. Dall'altro lato, Carlo fu un sovrano relativamente pacifico che si interessò alla cultura e alla religione. Il suo regno segnò l'inizio della fine dell'impero carolingio. L'unità dell'impero fu ormai compromessa e le sue parti iniziarono a prendere strade separate.